Vediamo alcuni aspetti del protocollo per lo svolgimento delle attività di sostegno nelle classi con alunni con disabilità. Il docente di sostegno e il docente di disciplina condividono lo stesso ruolo. L'integrazione del docente di sostegno è la misura che permette l'integrazione in classe dell'alunno con disabilità. La presenza di un alunno con disabilità in classe offre un fantastico vantaggio educativo. Il docente di sostegno coordina le attività che verranno svolte durante l'anno con l'alunno con disabilità, collaborando col docente curriculare. L'integrazione dell'alunno con disabilità si svolge su due dimensioni. Integrazione attuale, cioè l'alunno deve stare il più possibile in classe. Deve percepirsi integrato all'interno del contesto classe e assumere il più possibile la funzione di studente. Anche quando la disabilità è talmente grave, far stare tutto il giorno l'alunno con disabilità fuori dalla classe è una grande sconfitta per tutto il team docente. La seconda dimensione è l'integrazione in una prospettiva futura. Ovvero, di tanto in tanto, può essere utile o necessario che l'alunno si distacca dalla classe per svolgere altre attività. Il docente di sostegno svolge un ruolo anche nei confronti della classe. E deve quindi utilizzare lo spazio classe a 360 gradi, entrando in relazione anche con gli altri studenti. E il docente di disciplina deve svolgere abitualmente un ruolo, un compito, a fianco dell'alunno con disabilità. Tanto è maggiore il ritardo cognitivo nell'alunno con disabilità, e più devono essere adottate delle strategie, dei rituali in classe. Non deve mancare mai l'appello. Il momento che l'alunno con disabilità aspetta, aspetta di essere chiamato e di rispondere all'insegnante. Utilizzare il calendario e far staccare il foglietto il giorno dopo del giorno precedente. Se l'alunno svolge delle attività fuori dalla classe, l'intervallo deve comunque essere svolto all'interno del contesto classe con i propri compagni. Si deve fare il possibile per far restare l'alunno con disabilità dall'inizio alla fine della lezione in classe. Gli spostamenti della classe vanno sempre effettuati includendo l'alunno con disabilità. Durante i momenti di condivisione o durante l'intervallo, l'insegnante di sostegno deve stare il più possibile in disparte per fare integrare l'alunno con disabilità all'interno del contesto classe. Rispettare i tempi dell'alunno con disabilità. Inoltre, il docente di disciplina non deve mai manifestare fretta durante l'inizio della lezione nei confronti del docente di sostegno e dell'alunno con disabilità. Deve anzi mostrare un'attenzione partecipativa. Gli scambi di comunicazione tra il docente curriculare e il docente di sostegno devono essere sempre rivolti ad un'inclusione e non ad una separazione.